Dove siamo? Chi sei te? Vale? Ma dove siamo? Ma cos'è questo scomodo? Scusate, dovevo fare un giro. No, ho capito. Aspetta, non dirmi che c'è. Bene, siamo finiti nel mondo vita ancora. E dove sei? No, sono vive purtroppo. Attento, attento, attento. Ma te che cosa vuoi? Vabbè, ragazzi siamo tornati qua nel mondo vita. Volevo fare una cosa, andare un po' qua nella miniera, vecchia, vecchia. Qua c'è la casa mascherina anti-covid, con tutto il cibo dentro. Vieni all'Ikea? Sì, all'Ikea, però la miniera è vecchia. Ragazzi, torniamo un po' qua perché era proprio l'inizio, noi vivavamo lì, vi ricordate? Ci siamo espanti. Vale, ho dimenticato, come si dice, il piccone. Ho una z... Sì, ne deride. Ce l'ho nel castello, nella mia stanzina piccolina, quella più piccola. Aspetta, intanto dico il mio se vuoi. No, tranquillo, vale. Prendilo così non te lo ruba a te. Il 30 di febbreo. Lo aspettiamo, oh, 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 no, tutta qua. Aiuto, Todorocco. Lì c'è una nave venata, non so più. Ah, qua sì c'è, quando abbiamo sconfitto l'Aerobren, che gli abbiamo distrutto il castello, ricordo. Mi conviene. Ma se non è vero, sono piccoli, ricordi, nemmeno. Così? Che è la casa? Oddio, vale? Eh no. Vale, mi sono appena avvicinata. D'Aerobren e ci hai fatto un'esplosione, anche te l'hai sentita? Eh sì, è l'arrivo da te. Cosa cacchio? Mi ha messo qua in questa posta. Vedo? Eh sì. Sì, hai fatto bene, siamo nel... Oh mio dio, vale? La statua... Lo vedi anche te, eh? Cosa? La statua... Girati. La statua del dio di Minecraft che avevi costruito. Corri. Ci sono tutti i tentacoli, ma... Sei buono, vero? Non attacchi. Ma ha detto i tentacoli... Sono tipo poteri... È un ammasso di terra, che potrà essere? No, scusa. C'è una statua con del ghiaccio? Oddio, c'è... Vediamo che cos'è. Ed è un ammasso di diamante, cioè non è che ho fatto tanto l'animale. Tieni, Ed è un da blocchi. Tieni. Guardate, quando li prendo. Non li trovo. Ah, ecco. Ecco. Tieni. Venghi. È vero che... Sì, che eravamo andati a distruggere tutto. Ricordo. Io non sono una marea. Fatemi vedere. Varè è acqua, ghiaccio, fuoco. Quello cos'è? Tipo natura? Questa è... Tipo povertà, oddio. E quello è ricchezza. Cosa è? Cioè, ma che... Cosa? Non ho resistito. Ah, buttarti. Ops. No. Ok, sono caduto. Va bene. Una cosa non viene dalla mia. Oh, vale. Corri. Cosa? E come dire che in camera tu hai spuntato una mano di fuoco? Va a venire? Aspetta, vengo più... Mi riesce a metterlo così. Corri il tp. In camera mia? Sì. E... Mi vedi? Che è lo con la roba? Qua sopra dove sono io. Mi sono fatto tutta la scarinata. Guarda. C'è una mano di fuoco. E lì... Oddio. Là c'è tipo la mano della povertà. Quella lì. Ma non è che... Ma non fa me arrivare. Abbiamo tipo dei poteri nuovi. E un'altra cosa che prima ho notato che non avevo mai visto in questo mondo, controllo se qua ce ne sono altri. E infatti tutto ciò che abbiamo costruito, lì c'erano gli occhiali di Lion. Si è aperto un portale con i colori di YouTube ora. E c'è scritto Steph e Fere. Non lo so. Infatti là l'ho detto prima. Dice tipo il portale dei pirati c'è una nave volante con l'oro. Cosa stai? Leggi dove è Lion. Lion lo ha scritto in cielo. Non la trovo. Aspetta. Non me la ricordo più. Attento. Grazie. E non mi è spinta con un'altra mano. Ecco sì. E c'è una mano tipo quella della povertà. Noi siamo viaggiatori nel tempo. Quanto siamo in vicino? Vale, guarda lì. Guarda lì. Cosa? Lo vedi? Guarda, girati. Ecco, là in cielo, la scritta Lion, guarda sotto. C'è tipo un portale dei pirati con una barca volante. che c'è tutto. Andiamo a vedere per il mondo se ce ne sono altri. Lì vedo... I don't capisce proprio. I don't capisce. Vale, incontriamoci al cimitero. Perché di sicuro per te non c'è qualcosa lì. C'è in tutta la zona del mondo. Lì ne vedo... E ne vediamo suciutare. Ok. Ma abbiamo un ponte. Perché non lo usiamo ora che ci pensi? Sì, è pure io che sono un genio. Corri da me, Vale. Con le potere. Guarda, potere. Ah, vado a che dà bra. Bravo. Qua, ecco appunto, che ci scommettevo. Ci scommettevo che avevano fatto qualcosa. Vale, noi abbiamo costruito degli zombie e Pennywise. Che sono horror e è spuntato un portale horror. Con un palloncino e una mano zombie. Questa che è. Ah, questa è tipo Samara. E di capelli giù. Oddio. E ho visto un'altra cosa qua. No, è nostanzia. Corri, Vale. Ho visto un altro portale qua. Cos'è? Tipo poteri questo. Poteri, poteri, esplosioni, lava, ghiaccio. Ho pensato cos'è, Vale. Dove sei io? Eh, managgia. Cioè, questi poteri, basta ragionare, sono poteri di sicuro. Oh, no, no, no. Non ci luciamo il portale che magari... Mi chiedo scusa, solo per dirti, no? Mi è venuta appena in mente, ma farm city, no? Non c'è niente. Io vorrei un po' di ballare. Sì, Vale, ma ho pensato che cos'è quello? Poteri, esplosioni, vari tipi di poteri. Cioè, una serie che ho visto è My Hero Academica, quei poteri. Vediamo, io vado a farm city, se non a farm city. e farm... oddio, Vale. Ok, ah, ok. Sì, guarda, girati. Ti ricordi? Aspetta, no, vediamo se non c'è niente. Niente, alterazioni, niente. No, dobbiamo ancora costruire tutto. Lo stavamo costruendo. Quindi non giochiamo da tanto in questo mondo e ci siamo ritrovati con dei fulmini che hanno creato... Horror City, c'è il laboratorio degli SCP. Eh, sì, ma non c'è nient'altro. No, solo il laboratorio SCP. Quindi, fammi capire, Vale, fammi capire, ci sono dei portali che collegano tutto e ciò che noi avevamo già costruito. Aspetta, ho visto che il portale era pieno d'acqua, no? Quale portale? Questo è il potere dell'acqua. Portale del barca volante, quello là. Eh, sì, è dei pirati, suppongo. Barca, pirati. Prendiamo dei blocchi. Di cosa? Ci andiamoci sopra. Ma c'è una cascata, forse riusciamo. Eh, infatti, quello che ti stavo dicendo. Ah, no, no, eh, vabbè, proviamo. E, Vale, un'altra cosa che, quindi, sappiamo che ci sono dei portali delle varie film, serie TV. Horror? Tutto ciò che abbiamo costruito si è duplicato in un modo assurdo. Un'altra cosa... Vale. Ci sono tre ufi, ufi di alieni, sopra l'arcobaleno. Tre ufo, Edo? Tre ufi, sì. Tre ufi, certo. Sono dentro il portale, aiuto! No, sono caduto! Però c'è un blocco in cui ci possiamo mettere. Edo, ce l'hai tu blocchi qualcosa per andare? Sì. Io ho una scala. Cerchiamo di non rompere. Ok, Vale, ci sono. Spegniamo un po' le fiamme. Ti vede che era appena uscito dal... Mamma mia, Edo. Non so, io... Mi vengo da ridere. Eh, tu ridi, ridi, che la mamma ha fatto gli gnocchi. Diamante, smerando, oro. Cosa? Dove? Precipitazione. Ah, grazie, sei simpatico. Ok, togli la precipitazione, non ti provare. Quindi... Eh, è caduto tutto... No, Vale, ma qua c'è una scala, ma sei stupido. No, 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 non distruggiamola, Vale, però. Magari un rielito. Sì, è una barca pirata. Ah, so io cos'è. Guarda, se ti butti là c'è... E infatti si vede, c'è una sorpresa. Buttati. Ho capito, è una trappola dei pirati. Sono caduto. E ora come usciamo? Beh. Ah, siamo morti tutti e due, ok. Quindi, ragazzi, torniamo nel mondo Minecraft e troviamo tutto... Qua, sì, è qua la mia, è... La cassa dei... No, 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 è not successo niente. Beh, vale, ci sono dei portali che collegati a tutto ciò... Che avevamo, guarda, ti punto solo i piedini. Ma poi la mappa perché si è mezza distrutta? Non è successo niente. Oddio, vale, vieni qua, clicca questo bottone e guarda dove siamo. Ti ricordi? Ah, che... I pesci? Vale, chiudiamo il video così. Ciao. Ah. No, è brutto. Tu? Sono caduto nel vuoto. Wow, ma il vuoto è un pavimento. Vabbè, ragazzi, quindi torneremo a portare vita e speriamo che non succeda nient'altro oltre a questo. Nel prossimo vino. Nel prossimo vino? Bella. Nel prossimo vino. Vito. Vito. Ah. Oh, ho... Ho avuto un'idea. Carina, molto carina. come potete... Un tridente, ok. Vabbè. E no, chiudi. Se vuoi. Sì, penso di dover chiudere. Dobbiamo chiudere il video. Vale, ci sono due meteoriti. Cosa? Ah. Devi stila sulla montagna. No, mai si... Bye, bye. Quindi, sì, ragazzi, bye, bye. Nel prossimo vino. Nel prossimo video di vita. Perché porteremo... We parlem... We parlem de person. Signore, signore, mi fa chiudere il video, la prego. No, nello prossimo vino. Vale, devo chiudere il video. We parlem de person. Quindi, riporteremo vita. Ci sono varie cose, come potete vedere. Noi non ce le aspettavamo. E quindi... Bella.